Bentornati al canale, bentornati al fumetto, bentornati al collezionismo. Vi volevo parlare di questa serie degli anni 90 edita dalla Star Comics che era un simil Dylan Dog, un simil Lazarus Led, Martin Mister, X-Files, c'è un po' di tutto in questa serie e sto parlando, come avete visto nell'anteprima, di Samuel Sand. È questa serie a fumetti, come dicevo, dell'editrice Star Comics, scritta da Giovanni Barbieri, Marco Abate. I disegni sono di Antonio Sarchione e alcune copertine, compreso la prima, è di Marco Turini. È uscita nel dicembre del 96 e purtroppo in sette numeri si è chiusa nel giugno 97. La periodicità era mensile, quindi completa di sette albi. È un formato bonellide in bianco e nero e seguiva l'onda, come dicevo prima, del successo avuto dalla casa editrice con Lazarus Led. Questo Samuel Sand è un investigatore privato americano originario della California. Si era trasferito in giovane età in Francia. Lavora presso questa agenzia investigativa, la Dupin, della sezione Casi Impossibili. È questa agenzia di Parigi. Qui c'è una Parigi farcita di misteriosi eventi e delitti, quindi situazioni alla Martin Mister, alla Dylan Dog, alla X-Files. Questo Samuel, detto Sam Sand, è praticamente un investigatore, ha un carattere molto irruente, è un incallito Don Giovanni e la cosa manda in furia la sua collega Liliane de Talayla de Cressy. È una bella e colta francesina, la quale possiede alcuni poteri paranormali. È un gatto magico, pensate un po', di nome misti. È esperta in arti marziali e guida questa guida spericolata. Poi lei è un po' alla Tex Wheeler, scazzottate varie, è molto forte, quindi è un po' anche la guardia del corpo del nostro Samuel Sand. Poi nella trama, praticamente per risolvere questi misteriosi casi, Samuel può contare anche sull'aiuto dell'ispettore della Suerte Nationale, la polizia francese, che si chiama Jaspin, questo ispettore. Poi in alcune particolari occasioni ci sarà anche il crossover con l'amico new yorkese Lazarus Led. Vi faccio vedere la serie che io ho completa, bella impacchettata, la copertina, le costoline, e poi nel retro copertina c'era di solito la pubblicità a Lazarus Led. Veniva 3.000 lire a quei tempi il numero 1. È molto reperibile, ho visto ci sono un sacco di annunci, è sotto i 2 euro a numero, quindi proprio con 15 euro la portiamo a casa. Io l'ho comprata a quei tempi in edicola, e la consiglio perché è una miniserie molto carina e molto interessante, il fumetto, come dico sempre, quando lo merita, merita. Quindi Samuel Sand, Star Comics, anni 90. Un saluto e vi aspetto in un prossimo video con un altro personaggio. Faccio una bella carrellata di personaggi del fumetto di varie epoche. Una carrellata abbastanza veloce, filmatini di 5 minuti, quindi non annoiano e si seguono bene. Seguitemi sul canale Aldingoshow. Un saluto a tutti.